Bentornati su MyFootballJersey. Dopo aver provato un paio di scarpe e un paio di slide, ho deciso di mettere alla prova il sito con una borsa. L'esperimento secondo me è andato abbastanza bene, ditemi voi cosa ne pensate. Alla prossima! Non è ovviamente una borsa per me, non sono un esperto, però devo dirvi che sono rimasto molto stupito. Il costo, lo vedete qui sopra, è estremamente basso, poi decidete voi cosa fare. Qui sotto, in descrizione, trovate il link per ordinare la borsa. Andate a vedere se ci sono altre offerte che vi interessano. Ora, prima di salutarvi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che vedete per far crescere il canale e avere sempre nuove recensioni. Alla prossima!